Un decesso, un uomo di 79 anni, che porta il totale da inizio pandemia a 1884, 68 nuovi casi di contagio e nessuna persona ricoverata in terapia intensiva, sono i dati di oggi del bollettino Covid diffuso dalla Regione Emilia-Romagna. Numeri che per quanto riguarda la diffusione del virus confermano il trend in ribasso della pandemia a Piacenza. L'andamento dei nuovi contagi scende a meno 16,7% rispetto alla settimana precedente, con i nuovi positivi passati a 541 dai 650 di sette giorni fa. Un calo allineato alla flessione registrata a livello nazionale, meno 15,6%, e più alto di quello in Regione, meno 11,5%. Analizzando i nuovi positivi su 100.000 abitanti, il tasso di incidenza locale registra 191 casi, la media emiliano-romagnola è di 227, quella italiana di 223. Negli ultimi sette giorni sono stati effettuati poco meno di 4.000 tamponi, in aumento rispetto ai 3.662 della settimana scorsa, con una percentuale di positivi che scende da 17,7% a 13,7%. Continuano i monitoraggi periodici nelle case di risidenza anziani. Lo screening di questa settimana registra 27 nuove diagnosi tra gli ospiti e nessuna tra gli operatori. Si tratta comunque di casi generalmente asintomatici o con sintomi lievi, individuati per la maggior parte grazie al monitoraggio periodico proattivo effettuato nelle strutture. La situazione della retta ospedaliera registra un calo di positivi. Gli accessi giornalieri in pronto soccorso per pazienti con sintomatologia riconducibile a Covid sono 5, mentre la settimana precedente erano 7. Per quanto riguarda le vaccinazioni, nei sette giorni scorsi se ne contano 510, mentre erano 732 la settimana precedente. In riferimento alla quarta dose, la somministrazione del secondo booster è possibile solo previa prenotazione tramite i consueti canali e nelle sedute dedicate. Per poter ricevere il secondo booster, occorre aver completato il ciclo vaccinale primario, prima e seconda dose, seguito dalla terza dose, quella di richiamo. Si rivolge a tutti i cittadini a partire dai 60 anni di età e a quelli con elevata fragilità.